Il Giarre guarda avanti con fiducia dopo la vittoria scaccia crisi in Coppa contro la San Pio X, peraltro ottenuta in rimonta dimostrando carattere e determinazione. Lo stesso spirito, né più né meno, servirà domenica al Carlina di Tre Castagni contro l'Igea Virtus. Contro una delle big del campionato servirà il miglior Giarre e il miglior Giarre potrebbe esserci considerato che mister Maurizio Romeo potrebbe avere per domenica tutti gli effettivi a sua disposizione. Tra l'altro il Carlina di Tre Castagni potrebbe esaggiare le qualità tecniche dei gialloblu sul manto in erba sintetica. La poca abitudine potrebbe essere uno svantaggio, ma i valori tecnici di tanti gialloblu potrebbero venire fuori in modo più evidente.